Pace e bene, oggi vorrei condividere con te la storia della matita. Un bambino guardava la nonna che scriveva una lettera. Ad un certo punto le domandò «Nonna, stai scrivendo una storia che è capitata a noi e che magari parla di me?» La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse a nipote «È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, vorrei che tu facessi attenzione per un attimo a questa matita che sto usando per scrivere. Vorrei che la usassi tu quando sarai cresciuto». Incuriosito, il bimbo guardò la matita senza trovarci alcun che è di speciale. «Ma mi sembra uguale a tutte le altre matite, nonna!» «Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose», gli rispose la nonna. «Questa matita possiede cinque qualità. Se riuscirai a viverle, sarai sempre una persona in pace con il mondo». Prima qualità. Puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che guida i tuoi passi, Dio. «Egli deve condurti sempre verso la sua volontà. Se ti farai guidare da Lui, farai della tua vita un capolavoro». Seconda qualità. Di tanto in tanto, devi interrompere la scrittura e usare il temperino. È un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita, ma alla fine essa risulta più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori. Ti faranno diventare un uomo migliore. Terza qualità. Il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere è un'azione o un comportamento che non è negativo. Anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta via della giustizia. Soltanto chi sa lasciarsi correggere e sa correggersi migliora. Quarta qualità. Ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiuse in essa. Dunque, fai attenzione, ciò che conta non è l'esteriorità, ma ciò che accade dentro di te. Ed eccoci alla quinta qualità della matita. Ricordati che la matita lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà una traccia. Di conseguenza, impegnati ad avere piena coscienza di ogni tua azione e cerca di far sì che sia un'azione buona. Come disse Madre Teresa di Calcutta, io sono una povera matita nelle mani di Dio. Che il Signore ci conceda di essere matite che tracciano nei cuori delle persone che incontrano capolavori di bellezza. Che il buon Dio ti benedica.